torno a fare altre prove sul canale trovate di testa fatti con una batteria al piombo 60 ampere fatto di testa sia con un regolatore da 15 euro a fatica riuscito a caricare una batteria di una bici da 500 watt e poi ho usato anche il vittron con questo e lui ha superato le aspettative andate a vedere i video sul canale questa fare pesa 30 kg decisamente scomodo allora mi sono attrezzato con questo qui 3 kg e mezzo 72 ampere inverter integrato una 220 carico massimo 300 watt e le varie prese usb accendi sicari ingresso da radio agente per ricaricarlo ingresso da pannello solare per ricaricarlo carica wireless una lampada qua dietro decisamente fatto bene qui sotto metto il link eventualmente di nuovo un test la batteria questa qui lì è al 30 per cento stessa percentuale di quando devi testa con questa ho scaricato il 65 per cento questa mattina questa è da 500 quindi all'inizio circa 450 watt devo tirare via dalla batteria per caricarla tutta qui abbiamo detto sopporta picco massimo 300 watt carica batterie questa batteria della bici ne richiede uno spunto massimo di 280 watt solo all'inizio poi comincia a scendere cala di prezzo verso la linea della carica però lo portiamo proprio al limite il test è un bel test profondo e in più voglio aiutare la batteria questa qui con un pannello solare da 100 watt e 5 ampere massimo di carica accendiamo partiamo dal cento per cento accendiamo qui l'inverter questo è quello che lui rileva in assorbimento che è partita la carica 280 watt massimo sono passati 20 minuti assorbe ancora 270 watt insomma sta faticando già al 62 per cento qui c'è la ventola questo è il massimo rumore che si sente praticamente un soffio sono passati circa 40 minuti siamo al 43 per cento e la richiesta del carica batterie della bicicletta è scesa a 180 è cominciato a rallentare quindi probabilmente siamo vicino al 50 per cento della carica di questa batteria passata un'ora siamo al 25 24 per cento la richiesta sempre discretamente alta 190 watt ad un'ora e un quarto e siamo a un livello critico 8 per cento decisamente non ce la fa caricare la batteria della bici 500 watt sono un po troppi un altro colore di valutazione che ho fatto è sulla quantità di litro di amperaggio che si trova qui dentro perché questa è una batteria al litio che ha 72 ampere dentro e presento al litio sono 72 ampere a 3,6 volt mentre invece quella al piombo che ho usato per gli altri test di quella di a 60 ampere a 12 volt che vuol dire sono circa 750 watt che sono dentro essendo al piombo puoi scaricarla tu la metti che ne prendi un 50 per cento 300 watt dagli ritiri via la batteria della bici sono 500 watt quindi quella batteria al piombo aiutata da due pannelli da 200 watt tranquillamente si ricaricano i 500 watt di quella batteria qui siamo una condizione molto diversa che non ho valutato all'inizio la differenza di risultati perché questi sono 72 ampere a 3,6 volt in realtà qui dentro ci sono 250 watt 500 watt di batteria della bici non si può caricare insomma è un test veramente estremo lascio un po' il tempo che troppo gli sto chiedendo veramente troppo interrotta la carica lui dovrebbe passare alla ricarica dal pannello solare input 4 watt sono veramente ridicoli da qui l'ingresso sulla batteria c'è scritto che puoi attaccare direttamente un pannello solare ho pensato che dentro la batteria ci fosse direttamente un gestore di carica dal pannello solare quando invece in realtà non è così tu attacchi il pannello solare infatti entrano solo 7 9 watt e dopo un'ora siamo al 7 per cento direi che sono abbastanza convinto il problema sia dal pannello adesso voglio provare a far passare il pannello dentro il Victron e vedere se migliora la situazione questo è il collegamento fatto tramite il Victron e ci sono notevoli cambiamenti adesso carichiamo a 43 watt e da circa cinque ore al completamento della ricarica dall'app Victron ho limitato la carica in amperaggio a 5 ampere che è il massimo che può ricevere quella batteria e vediamo abbiamo 51 watt dal pannello solare 16 18 volt 2 ampere direttamente dal pannello e il Victron manda giù 5 ampere a 10 volt si viaggia decisamente meglio siamo al ritmo di circa un 7 per cento ogni 25 minuti più o meno questo può essere caricato anche dalla macchina dall'accendicigari così così messo in carica a 70 watt molto più di quanto faceva dal pannello e per curiosità vediamo assorbe circa 7 ampere cioè 86 watt dato che sono decoccio oggi c'è ancora una buona giornata qualche nuvola voglio proseguire la carica della batteria della bici che è all'incirca al 50 per cento non so non credo che riesca a gestire sia la carica che la scarica con tempo allenamento perché se io vado con la 220 interrompe la carica avvia l'inverter siamo nella fase finale della carica scende ancora la richiesta e ci siamo batteria carica si trova al 32 per cento siamo riusciti qui a ricaricare l'intera batteria della bici in due volte un test estremo per questo tipo di generatore però direi che se l'è cavata vediamo poi in un test più reale il frigo di Bevole da 36 litri che è una situazione un po più reale da camper da campeggio piuttosto che caricare 500 watt di batteria ostinarsi a caricare 500 watt di batteria e il frigo Evor assorbe in uno spunto in partenza quindi deve partire da caldo arriva a 6 ampere poi in mantenimento si tiene tra i 3 e i 4 ampere con la batteria al piombo da 60 ampere io sono arrivato a circa 3 giorni e mezzo rendendo circa 300 watt come normalmente faccio preparo il frigo a casa e adesso come se dovessi andare in camper quindi in campeggio o dovunque sia tolgo la 220 passo l'alimentazione dalla batteria accendo il frigo si è avviato e qui abbiamo al momento un assorbimento a zero perché effettivamente non ha bisogno adesso il frigo di fare freddo è solo il mantenimento in questo momento il frigo è partito per fare il mantenimento della temperatura si sente la ventola e in batteria c'è un consumo di 36 watt e mi dà un'autonomia in questa condizione di 7 ore ho attaccato ieri sera alle 22 il frigo alla batteria che era al 100% adesso sono circa dei 20 quindi diciamo una giornata lo legge siamo arrivati al 10 per cento quindi un frigo a 6 gradi impostati due ambienti a tutti due a 6 gradi lo tiene una giornata tranquillamente devo fare una precisazione perché il display a me ha mandato un po' in confusione mi aspettavo che desse delle indicazioni in contemporanea cioè quanta corrente arriva in carica e quanta corrente esce nello stesso momento mentre invece c'è una logica un po' diversa che a me ha mandato un po' in confusione non capivo bene se riusciva a caricare dare corrente nello stesso momento sostanzialmente attaccato al carica alla 12 volt lui vede l'ingresso 70 watt con il frigo collegato da una corrente di 36 watt quando io attacco sia la carica che il frigo quindi una carica e un scarico il display quello che fa vedere già la somma la sottrazione dei due valori cioè 70 watt meno 36 watt di carico il residuo sono circa sempre 35 36 watt disponibili per andare in carica quindi quello che lui fa è un bypass nel senso vede l'ingresso sufficiente corrente per buttarla direttamente fuori il residuo lo manda in carica quindi effettivamente dalla sua batteria c'è un carico pari a zero ma solamente in carica quindi un po' manda a meno a me ma ha mandato un po' in confusione infatti avevo mandato delle mail anche al produttore che in tempo reale per il giro di 10 minuti rispondeva alle mie mail confermandomi che dava carica e riceveva la carica contemporaneamente è un'indicazione del display c'è la sua logica io però l'ho interpretata diciamo male alla fine ne vale la pena secondo me sì dipende da quello che ci si fa insomma un frigo una giornata lo tieni collegato tranquillamente in situazioni di campeggio libera sicuramente va bene un buon compromesso a un prezzo contenuto un camper forse è un po' diverso dal discorso perché sul camper c'è un impianto un po' più corposo batteri dei servizi i pannelli isolari e quant'altro quindi però in camper ti devi fare l'impianto devi mettere un inverter infatti io ho preso un inverter ho preso un inverter da 890 che ancora devo montare dopo tirare dei costi o te lo fai montare o sei capace a montarlo capace di montarlo oppure per le piccole cose caricare pc telefoni che sia entro i 300 watt ce l'hai già fatto non devi fare niente prendi questo e te lo porti dietro carichi tranquillamente quindi quando sei in libera puoi avere la 220 entro i 300 watt senza dover andarti a far montare inverter in pc e in broglie roba varia secondo me ne vale la pena solo perché ce l'ha ciao 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 ciao